...intranet di recente attivazione e questo ancora non lo sa, ci hanno chiesto di un preventivo per la creazione di un network di siti formati da un nucleo centrale più un'altra serie di siti satelliti. Quindi questo è tutto successo dopo che hanno provato il sistema. Tutto questo sarebbe stato, a mio giudizio, veramente impossibile se non ci fosse stato, impossibile per le dimensioni della mia agenzia, impossibile se dietro non ci fosse stato un partner tosto che è in grado di stare dietro a tutte le problematiche tecniche del sito e quindi di conseguenza anche al cliente nostro. Io ho finito, ringrazio Enrico per il rispetto. Grazie a tutti.